Ciao ragazzotti, ciao! Allora, volevo fare un piccolo annuncio, questo qui è l'annuncio di un ritardo live di questa sera perché sono stato invitato fuori a cena con degli amici, quindi ci vado, appunto, il venerdì sera, non faccio il sabato ma ci vado il venerdì, la live questa sera ci sarà di notte perché sto uscendo adesso e rientrerò per le 11 e mezza, 11 e 11 e mezza, cioè dopo le 10 e mezza, non so esattamente a che ora rientrerò ma rientrerò per le 10 e mezza. Farò un piccolo video, se là ci sarà il wifi gratis dove andiamo al ristorante, farò una piccola live da là perché giocheremo a bowling, vi farò vedere il bio mentre gioca a bowling oppure se non c'è farò un piccolo video. Quindi ragazzi, questa sera non ci sarà la live, non dalle 9, non dalle 9 come al solito ma ci sarà dopo le 11 sicuramente e niente, ci vediamo più tardi ragazzi, ciao! Ciao!